E ormai di prossima pubblicazione è la bando per incentivare la costituzione di comunità energetiche rinnovabili nei comuni lucani che possono diventare strumenti innovativi di governo del territorio, il cui sviluppo potrà essere esteso anche alla più generale gestione dei beni comuni o di ulteriori servizi pubblici locali. Lo ha detto l'assessore all'ambiente, energetica e territorio della regione Basilicata Cosimo Latronico, intervenendo a Moliterno alla tavola rotonda la transizione ecologica ed energetica per lo sviluppo delle aree montane tra Agenda 2030 e nuovi modelli di governance nell'ambito del premio letterario Basilicata. Le stesse CR, ha concluso Latronico, possono attivare proprio in questi piccoli laboratori della transizione energetica un nuovo indotto economico e un nuovo mercato del lavoro. C'è il grande tema delle comunità energetiche. La Basilicata può essere un modello da questo punto di vista. Ogni comune dei 131, soprattutto quelli piccoli ovviamente, potranno costituire delle comunità energetiche, cioè mettere insieme le comunità per combattere la povertà energetica ed è uno strumento giuridicamente valido anche per fare altri scambi. Oggi l'energia, domani altri servizi. La Basilicata, la regione, si accinge nei prossimi giorni a varare un bando che sostiene i comuni per predisporre degli studi di fattibilità tecnico-economica in modo che i comuni lucani potranno essere pronti per partecipare al grande bando nazionale finanziato dal PNRR per la costituzione e la gestione delle comunità energetiche che sono proprio un nuovo modo di produrre e di scambiare l'energia. Passi in avanti anche sul percorso del bonus gas per i non metanizzati. Di queste ore la saturazione del primo bando per i cosiddetti non metanizzati, più di 6.000 lucani, quindi famiglie lucane, hanno prenotato i primi 40 milioni di euro, più di 200 imprese e installatori sono messe in movimento. Naturalmente con la nuova annualità 24 ci saranno altri 40 milioni di euro. per dire che c'è un fermento importante.